Il comune di San Nicolarcella ha rescisso anticipatamente il contratto d'appalto per la gestione dei rifiuti con la Multiservizi Igiene Ambientale di Rende a causa di gravi inadempienze che hanno causato emergenza ambientale e sanitaria. Termina così il contratto quinquennale stipulato a dicembre del 2012 per somme prossime ai 300.000 euro all'anno. La decisione è stata presa ieri, lunedì 13 aprile 2015, con una determina del responsabile dell'area tecnica comunale pubblicata oggi sull'Albo Pretorio. Tra le inadempienze poste a base della decisione, la nota vicenda dell'isola ecologica di località Vannefora, sequestrata dai carabinieri di Scalea a febbraio perché trasformata in una discarica a cielo aperto, sequestro poi convalidato dal GIP di Paola. Ma hanno pesato anche i numeri della raccolta differenziata a giudizio dell'amministrazione deludenti. Lo proverebbero otto segnalazioni effettuate nell'ultimo anno di gravi inadempienze contrattuali nell'espletamento del servizio. I numeri forniti dal municipio sono impietosi. In due anni la ditta ha raggiunto una percentuale di differenziata del 15,80%, mentre gli obiettivi contrattuali fissavano tale valore al 45% per il primo anno e al 55% per il secondo. E poi ancora le carenze nel personale utilizzato a Vannefora, oltre che nelle attrezzature e nei mezzi. A tal proposito il comune dichiara di non avere notizie di alcuni container acquistati e messi a disposizione della mia. In sostanza per lente la condotta del privato ha svuotato l'appalto dei contenuti essenziali al miglioramento dei servizi offerti all'utenza per come stabilito. Pertanto si è giunti alla chiusura anticipata del rapporto e il comune di San Nicolarcella fa sapere che non corrisponderà all'appaltatore alcun indennizzo per la riduzione del periodo contrattuale, anzi valuterà la possibilità di chiedere danni per il disservizio. Come da legge, ora la mia SRL ha 60 giorni di tempo per appellarsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.